ok sono in line per la forgiatura per prendere un po' di roba guardi di acciai della forgiatura guardi di ferro di alchimia maggiore prendiamo anche questo venti gemmi dell'anima suprema strisce di pelle guardi di ferro di alchimia maggiore allora ora ho fatto il video va bene va bene e lega patrano senza compenso ok allora facciamo ho fatto leggere ok te l'ho detto che nostra sorella ci avrebbe aiutato ok ok andiamo a vaitra ah pure io mi ridupi la roba ok 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 insomma posso realizzare per te un capolavoro hai scelto molto bene fai strada e io ti seguirò fai strada dunque ci mettiamo qui io e te siamo fatti della stessa pasta sono felice di aver incontrato come desideri ok allora non va bene non va bene stiamo a duplicare un po' di roba per la forgiatura e vai con gli scorotto ok non va bene poi vabbè allora ma no ma va bene va bene può Cosa si tratta? Cosa? Va bene. Va bene. Va bene. Rimarrò qui. Sì. Ah. Funzionate con le pozioni? Questo sistema qua lo può usare a qualsiasi cosa. Beh. La faccio con la porzione di cura copiosa. Serve qualcosa? Sì. sa madre. hiìììì… He isato e qui a fredda sono... benvenuti, non l'esserebbe pirates Toutedra. Ha faccio con la scuola contra la perilla. Ciò? Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di cosa si tratta? Va bene. 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 Va bene 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 Come va di tre sentenze volte che ti rimani in verso nella mente, no? Hai ancora bisogno di qualcosa? Va bene, va bene Allora, questo qua è il migliore Questo è il migliore Già Eh, qui va Perché andassi a comprare gli ingredienti e sperare che venditori ce l'abbiano quando li puoi duplicarli con lei Rimarrò qui Eh, ma gli ingredienti, va bene, andrebbe bene anche quelli, però secondo me sono troppo piccoli da vederli Eh Bisognerebbe spostare lei in un posto dove c'è un aiuto visibile Int rápido Iti che è un Progrlichkeit Beh, devi vedere Secondo Gaspare Grazie D again Sì Allora Sì 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 Ah, adesso è nocturno, eh. Sì. Grazie. No, va male. Va male. Va male. Va male. Oh, bro. Va bene. Vabbè. se no più va bene è vivo. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. va bene va bene va bene va bene i sei appunto str develop apperle va bene 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 aware ha tutto qui Ma non, non, non c'è mai l'apassione, non c'è mai l'apassione. Come va, c'è un'amma, non c'è un'amma, non c'è un'amma. Se è quello che desideri, rimarrò qui. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Dovessi sentirla per 60 volte, credo. Grazie. 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 Grazie Grazie Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene È tutto qui? Volevi il titolo? Sì Sì Ora ho Volevi il titolo Lei risponde Va bene eh non si ci riprende non si sapevo che ho posto dell'erba si sapevo qualcosa se è quello che desidero rimarrò va bene con punti di domanda e questo non va bene non si sapevo non si sapevo Borsa per animali E colare per animale Oh, potrei fare anche una di queste allora Dici, gliela faccio? Ne rafforza? Che cosa? Borsa per animali E colare per animale Ma puoi anche aspettare Tanto per adesso un animale Non l'abbiamo mica ancora Sappiamo che si può fare Però Dovremo farlo l'occorrenza Puoi vedi tu Puoi anche farlo E mettetelo via da una parte Allora, di vero che faccio un po' di pelle E' un po' di pelle E' un po' di pelle E' un po' di pelle Uno spero è un po' di pelle Sicurata Saliva molto più della semente no ma fai ma ma fatti i pugnali eh ma ci sono le gotti di ferro che non avevo lo senti la mia voce della voce da me? si vuoi fare la gara di chi fa più va bene? state a vedere ah vediamo io l'ho riservato su 70 va bene, di cosa si tratta? cosa? va bene, va bene, va bene, va bene va bene, va bene, va bene mi immagino una persona vera che fa sta roba qua va bene 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 ma lei particolare la canale di va bene tutto va bene 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 certi come soddisfatta sempre va bene va bene va bene va bene conosco il tipo bene siete gente super va bene 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 povera il boscudo va bene 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 che cosa abbiamo scoperto ma perchè non ci non c'è mai il rato, stanno qui no no, questo poi è migliore in assoluto questo va bene mi domando se funziona anche... 105 pezzi, ti va bene? ah! vabbè, vabbè, va bene tutto hai detto 60, io sono avuto 105 hai visto il racconto del va bene va bene va male va male va male va male immagino a tua madre che dice ma che... perchè... questo discorso che effetto è sempre lo bene che male grande Enzo che si è fatto per coprire questo spazio qui se è quello che desideri ma la sapevo anch'io questa, solo che non avevo ancora capito come funzionava alla perfezione va bene rimarrò qui 130 lingotti, 80 strisce uuuh metterli tutti insieme quando glieli fai cadere per te mi piace solo che devi metterli per forza una una volta ma per i vingotti se proprio metterli su tutti che succede? non li duplica non li duplica se metti giù 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 tutti che cadono non li duplica? no tutti tutti in un blocco solo no eh solo li duplica solo se ne lascia cadere una alla volta eh ma lei non gli va bene tutti insieme vedi a uno una volta gli va bene eh però ti do un consiglio quando duplichi la roba mh dopo un po' che ne hai dopo un po' che ne hai metteli in un barile lì vicino che ce n'è uno lì vicino alla forgia eh li metto tutti tutti tranne uno e poi poi te ne tieni te ne tieni dieci o venti per te e il resto li metti via perché sennò quando li devi lasciar cadere diventa veramente lungo la barretta a calare fa molta fatica dopo una alla volta hai capito? eh sì eh così almeno ne abbiamo sempre un sacco di scorte per appoggerli no? ma dopo te li volete metti poi ti metterai poi dietro a casa tua però almeno così 20 te li dupli te li usi per duplicarli 10 o 20 e il resto te li metti da parte perché sennò la barretta fa molta fatica a scendere quale barretta? quando fai l'ascia che fa la barretta che devi farla scendere per lasciare cadere l'oggetto desiderato eh se ne hai 100 prima che arrivi a zero si auguri eh appunto allora fai prima a tenerne tenerne 20 con te e il resto trovi da parte come sto già facendo adesso io con 80 faccio una fatica di strisci di pelle una cosa allucinante e anche perché tra quelle e le pelle le pelle stesse le pelle stesse hanno preso poco per ognuno pesa hanno preso due per ognuno ma dai mi è rimasta ancora sta roba ognun barille io io avevo messo ancora un tempo fa un arco da caccia e quattro patate sono ancora lì eh però ti è andata bene ma in posti come quelli non rimane per tanto tempo eh dopo un po' spariscono eh te lo dico per esperienza perchè sono qui va bene di cosa si tratta cosa qua va bene va bene, 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 va bene va bene, 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 va bene Tutto qui? Ho avuto tutto un uomino di appaglio, perché prima... Se è quello che desideri, rimarrò con i palloni. Grazie. Sì? 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 Sì, ma faccio un link a bene. Adesso l'oratorio non mi sentite neanche una volta. Ah, sì? Quando voglio vendere sì. È però per vendere, per far salire molto l'oratorio, vendine una alla volta. Ti saldi ancora più velocemente che vende l'ingruppo. Allora... La nota che il tuo popolo è tutto in gruppo. Quello me ne raccolto su PS3. A Riften Church ci sarebbe anche una persona che, se gli parli di continuo, ti sali, ti sale a dismisura l'oratoria. Ma quella la faremo poi più avanti. Ma quella la faremo poi più avanti. se ti sali, se tu li trovi... Yeah! Diferibilità di quello che non muoio il mercurio o il dioricalo. Sapete, quando muoio, cadego. e dai è a come passatempo questo e e e e e Grazie a tutti. 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 Va bene. 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 Volete prendere la musica sotto? Tutto qui? Tutto qui? Cosa ti serve? Va bene. Adesso che gli va bene. Rimarrò qui. Va bene. Va bene. Va bene. Oh mamma Serve qualcosa? Se è quello che desideri Rimarrò qui Allora 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 Grazie. Non ho fatto caso che me ne manca una quando le vado a raccogliere, può essere una cosa normale? Allora, io ho dato 10 di pelle per terra, vediamo un po' la scuola. Sì, sì. Va bene, di cosa si tratta? Cosa? Va bene. Dica cosa si tratta, cosa? Va bene, va bene. Va bene. Sì, va bene. Allora, io ho dato 10 pelle. Vediamo. Sì, sì. Sì, sì. Se è quello che desideri. Io gli ho dato 10 pelle e gli ho duplicato 10 pelle. Quando tu dopo hai duplicato la roba, che dopo fai commercia, che ti riprendi la roba, alla fine dopo ce n'hai uno in meno. No, ma mi dice pelle 20. Quando l'hai commerciato? Quando hai commerciato con lei? Sì. Quando ho commerciato con lei, lei ne aveva 10 pelli. Sì. Io gli ho dato 20 gemme per terra. Sì. Ho commerciato con lei, alla fine non ne avevo 40, ne avevo 39. Sì. Bravo. Serve qualcosa? Se è quello che desideri? Rimarrò qui, allora. ło? Ho registrato. Ho una cosa. Grazie a tutti. Va bene. Di cosa si tratta? Cosa? Va bene. 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 Tutto. Torrio dovrebbe funzionare con tutto. Eh, potrei fare con la chiave della potenza di Edgar, così ne ho due, sono a posto. Ah, giusto. Faccio la chiave che non riesco a trovare lì. Serve qualcosa? Se è quello che desideri. Eh, volevo, sì. Volevo proprio. Rimarrò qui, allora. Non lo fa cadere? No, non me lo fa cadere. No, non 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 lo fa cadere. Ah, non puoi cadere le chiavi. No, non lo fa cadere. No, non lo fa cadere. No, non lo fa cadere. Ah, beh, mi sembra giusto, fatemi mettere l'abilità della cera lì, che cosa serve? Se lo so, non 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 lo so. Eh. Eh. Vabbè, la metti in un cassetto, poi dopo, quando Elger sarà chiusa, più avanti, usi chiave di cera. Cosa? Sì? Eh, non si è. Va bene. Di cosa si tratta? Cosa? Va bene. 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 Tutto qui? a me che lo voglio mettere tutti gli oggetti di tutto intorno a lei allora si è dedicato il mercurio quando cade cosa ti serve se è quello che desideri rimarrò qui lo fai con il mercurio ma allora mi sa che fuori di tipo così si spaccano l'evento dei controlli lo fai con il mercurio lo fai con il mercurio cosa ti serve va bene di cosa si tratta cosa va bene 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 mi è caduta il natore dei miei botti d'acciaio va bene 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 Cosa ti sei, se è quello che desideri? Oh, sì, sì. Va bene. Rimarrò. Mi dice anche Sire, oh. Questo prossimo re, sì, Sire. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Va bene per tutto, no? Per qualsiasi cosa che dice, va bene, va bene. Fammi indovinare, qualcuno ha rubato il tuo dolcello. Ok. E cosa hai bisogno? Allora, ogni punto mi vado a comprare i cinque punti d'Arcadia. se vedi qualcosa che ti piace, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Dici che anche gli altri compagni diranno va bene o lo dirà solo lei? va bene, va bene. Ah, ok. Chiaramente con una tonalità completamente diversa. perdonami, hai per caso, hai per caso i tremori? credo di poterti insegnare un paio di cosette. va bene, va bene, va bene, va bene. Adesso andiamo in alchimia e borseggio. Ho sbariato, credo di poterti insegnare un paio di cosette. Oh Dio Dio Dio. Ci vediamo. Eh, ma mi mette il ricordo di ferro, però. Un rimedio universale? Credo di poterti insegnare un paio di cosette. Eh, no, no, va bene, mi mette il ricordo di ferro. Addio. No, 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 perché? Buongiorno. No, va bene, scherzo, mi sembra ancora buon forno. Credo di poterti insegnare un paio di cosette. Allora. Ecco. Offizio. Ehi, come qua ci vogliono tutti gli istorti? Sì, sì, sì. Ok, adesso di nuovo a forgiare. No, no, devo livellare. Ok. 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 I divini ti sorridono. Dai un'occhiata in giro. Troverai quello che stai cercando. In caso contrario, fammi sapere. Potrai... Hai un aspetto piuttosto fia... Credo di poterti insegnare un paio di cosette. Grazie. 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 Benvenuto. Ho le migliori armi e corazze. È un piacere fare affari con me. Lavoro per Bellethor, all'Emporio. Lavoro per fare affari. No. I miroi peggiam sito. È un'occhiata. Oh, no.. Assi... 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 Assi. Assi... ci vuole circa un migliaio di pezzi vabbè auguri allora auguri con i va bene però il coltellino diciamo il più veloce perché ti fai un lingotto e una striscia di pelle devo prendere mi devo sempre lasciami nel inventario almeno uno almeno uno oppure dieci è sufficiente che ti compri anche l'ingotto se non ce l'hai te ne compri uno o due basta ne compri anche due e dopo diventano quattro io e te siamo fatti della stessa pasta va bene di cosa si tratta cosa va bene va bene va bene va va bene 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 va Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Tutto. Vì. Cosa ti serve? Vì. Va bene. Va bene. Se è quello che desideri. Rimarrò qui. vi duplico un lingotto e una stucce di pelle ne faccio un centinaio, poi dopo mi vado a forgiare un coltello alla forgia, che è un pugnale, basta, una alla volta ne forgio, salgo in forgiatura e poi dopo quando salgo di un livello mi vado con un paio i punti in alchimia, velocemente e poi dopo gli rubo, in questo modo salgo sia a borseggio che a alchimia dopo. Dopo col germe dell'anima mi vado ad incantare tutti i pugnali creati e mi salgo in incantamento. Grazie. 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 Sì? Va bene, di cosa si tratta? Cosa? Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. va bene 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 ha fatto caso che ogni tanto non dice mica va bene dipende per quanto tempo ci metti da un oggetto all'altro sì quelle volte che il va bene non lo dice l'oggetto va perso ecco ecco perché non lo perde aspetta un attimo ecco sì sì se è quello che desideri rimarrò qui allora rarò find rarò find rarò find rarò ve if di rarò vai la serata dei va bene il va bene il chat boccale il chat boccale dei va bene la serata dei va bene se è quello che desideri si va bene di cosa si tratta cosa si vuole un gelato va bene 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 secondo te vanno bene o vanno male e? va bene io lo sto dicendo a lei va bene io sto facendo le domande del tipo secondo te le strisci di pelle vanno bene o vanno male così? e adesso va bene come risposta va bene va bene Jonathan vuoi fare un bagno? si se è quello che desideri rimarrò qui rimarrò qui e poi ti penso a fare un bagno io riflesso anche della stessa pasta pure io mi congratula pure sono fatti della stessa pasta sono felice di averti incontrato qui ho parecchie cose interessanti se vuoi comprare qualcosa e dentro c'è della anche per me non 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 Grazie. Un po' peso. Mettiamo i coltelli qua dentro. Guarda, anche questo è un po' lato. Sì, sono 29 prunali di ferro. Allora, se ne mette li allora. Ah, basta, se ne mette li perdono, se ne mette li perdono, se ne tre. Tanto me ne creò degli altri. Allora. Allora. Facciamo questo che è come niente. Molto di bello. Sivello 30. Siamo. Controvere, salire, che è un gran giro. Sì. Tranquilo, vai. Cosa ti serve? Va bene. Di cosa si tratta? Va bene. 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 qui rimarrò qui ti chiedo solo qualche qui ho parecchie cose interessanti se vuoi comprare qualcosa e dentro c'è del mondo no, mi va bene no, non so, ma qui mi è 75 grazie no, non so, ma qui qui è dove sta trittando no, tu, ti chavo Grazie a tutti.